Stare abbracciati in silenzio, sentire della pelle l'odore, del cuore il ritmo e dei pensieri solamente la musica, il ranzio. Lo si può fare il primo giorno, oppure dopo anni di discorsi, di percorsi. Quando funziona, tutto si sospende in una dimensione di bellezza, che nel tempo ne spazi può toccare, in due si superiori gli dei.